Viva, viva! Prima eravamo a 50 metri! Aspetta adesso qualcosa! Sicuramente prima si adesso... Oh, dopo vent'è ero da fare il filmino! Sti filmando? Eh si! Vai! E' lì che dice... era venuto qui Dio Bono! Riva, riva! Occhio eh! Canna piegata! Canna piegata! No ma all'inizio è stato tremendo proprio! Per fortuna sono riuscito a togliere via con la canna di mezzo Devi andare, anche indietro devi andare Vieni un po' indietro! Devi cercare di andare indietro! Indietro! Vai indietro! Vieni indietro! Tu si viva! Tu si viva! Sto giù dalla barca lui! Cammini indietro! Vieni indietro, vai! Vai man mano vieni qua! Cammini indietro! Eccola! No no no! La vedi male ma non viene su! Ha visto molto male! Dai dai dai! Tagli un pochino e dopo vai indietro! No, vai indietro! Vieni con uno schiavo! Sono preparato eh! Eh! Come si prende niente caro? Non si prende niente caro! Non si prende niente! Vai indietro! Dai dai che arriva! Sta arrivando! Ma sai che non parti? Vieni caro! Fida ma che potenza hanno queste pezze! E' l'impatto che ha a loro! E' l'ha visto nell'asca! Ma tu cane sei un volatile! Non sei un pece! Ce n'è per il traverso no? Osti! Adesso vai in giù! Sono un paio d'ore! Eh! 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 Ecco! Meglio ora! Ostia! Sotto adesso! Tira su! Tira su! Tira su! Non farò andare! Ah! Sotto sempre il gasco! No! No! Che buono! Cane sul suo! Cazzo! Piano piano piano! Adesso è una cacchiata! No! No! Eh! Eh! Ha rotto l'arma o è? Nada! Porco cane! Però divertimento c'è stato raga! Salvalo tutto!